Benvenuti a bordo comandanti, io sono Blizzard e oggi siamo qui praticamente su Smolensk per un nuovo episodio di Battlestar. Il protagonista di oggi è Slightly Obese Cheesy, giocatore internazionale del clan Junk, due volte vice campione europeo, due volte sconfitto in finale dai TVA nel King of the Sea, ottava e decima edizione. È un giocatore originario degli Overpenetration, che poi sono il gruppo principale che ha dato poi la creazione al clan dei Junk, fortemente componentistica tedesca all'interno di quel clan e anche Slightly non ne fa parte. Siamo qui praticamente nelle ranked, non c'è la Portaerei, Z52 contro Gearing, un numero importante di incrociatori in acqua e lui come avete visto, come ho detto all'inizio, sceglie lo Smolensk. Ragazzi, questo è un video più che altro, più che di Battlestars, anche se vabbè lo definiamo in questo modo, è un video più che altro per mostrarvi come sostanzialmente il nerf, tra virgolette nerf, anzi chiamola per quello che è, la modifica Inertia Fuse. Diciamo che doveva in qualche modo indebolire effettivamente lo Smolensk ed effettivamente c'è stata perché comunque è stata indebolita la parte centrale del ponte dello Smolensk. Ma per quanto riguarda quella meccanica, perché tanti ora pensano che lo Smolensk sia ingiocabile, che lo Smolensk non funzioni, semplicemente lo Smolensk non ha più bisogno, non necessita più di Inertia Fuse. E giocato nel modo in cui vi farà vedere questo ragazzo, diciamo che lo Smolensk è ancora un cancro dei mari in maniera smisurata. Prima però di addentrarci in quella che sarà una battaglia epica, perché il risultato finale sarà straordinario, uno dei migliori 25 risultati di sempre con questa nave per quanto riguarda l'aranca sul server europeo. E tra l'altro ringrazio Slightly e soprattutto gli Odden Mortis che mi hanno fatto pervenire il replay, comunque Odden Mortis tedeschi, quindi sono sempre amici dei Junk che comunque fanno parte sempre del compartimento tedesco, dicevo della comunità tedesca. Dicevo, ci saranno delle modifiche importanti sul canale di YouTube, come sapete da novembre ad oggi ho sempre portato due video di World of Warship a settimana, vi avviso che in futuro questo numero scenderà a un video solo a settimana, questo perché diciamo che questo gioco mi entusiasma sempre meno, sono sempre meno vicino alla Wargaming in quanto a condividerne le decisioni per gestione del gioco e soprattutto dello sviluppo del gioco stesso. E quindi secondo me, ve lo dico proprio tranquillamente, World of Warship non vale più il tempo a cui dedicavo prima a questo gioco, quindi semplicemente cercherò sempre più di allontanarmi facendolo rimanere un giochino per poi che è quello che è, nel senso un giochino da giocare ogni tanto, perché sostanzialmente secondo me è questa la direzione che sta prendendo World of Warship. E un giocatore come me non deve più dedicarci tanto tempo come prima, quindi questa è la mia opinione al riguardo. Comunque, rientriamo per la partita, Iowa che subito cerca in qualche modo di ingaggiare il nostro piromani incendiario dei mari, ma potete vedere lui ha preso una posizione centrale piuttosto importante, rischiosa, ma che può pagare tantissimo nei termini di economia della partita. Questo perché lui sa posizionarsi da dio con questa nave, è una delle sue navi principali, specialmente quando si giocano le clan battle. Lui comunque è un giocatore molto esperto, specie su questa mappa, e vi farà vedere come il suo posizionamento sostanzialmente sarà perfetto, perché riuscirà a tirare in ogni direzione, in ogni dove, e farà dei danni spropositati sfruttando la percentuale di fire chance di questi canoni che è terrificante. Ormai in Netsfield, dicevo, non si utilizza più sullo Smolensk, si preferisce Demolition Expert con il raggio di tiro migliorato, sfruttando al massimo il raggio di tiro che può addirittura, pensate, arrivare a 19 km. Quindi è questo proprio il caso di Slightly, che la gioca in questo modo, e i risultati sono piuttosto importanti. È arrivato il primo incendio su Laiwa, ne arriva un altro, ora lui praticamente sta prendendo di mira al Salem, che è un incrociatore piuttosto temibile per lo Smolensk, specialmente quando questa è stata nel fumo, però ha un vantaggio enorme, il fatto che lo Smolensk lo vede chiaramente sfruttando lo spotting dello Zeta al centro, ma soprattutto il Salem non dispone di un radar a 10 km del Des Moines, il suo radar è molto più basso, se non sbaglio 8,5, quindi il Salem è condannato a questa distanza, ha nessuna possibilità di uscirne vivo, se non nascondendosi, ma prima o poi lo Zeta 52 lo rispotterà e a quel punto saranno dolori. L'unica abilità che è richiesta attualmente da un giocatore di Smolensk, a parte il posizionamento su mappa, è sostanzialmente l'abilità nello switchare i proiettili da PHE, il Des Moines ha delle sovrastrutture che l'incrociatore russo può facilmente penetrare, infatti lui è passato velocemente alla P e arriva alla prima kill. 60k raggiunte con la prima kill, guardate un po' dove si è messo, posizione intelligentissima come ho detto prima, guardate adesso perché è fondamentale quello che farà in questa circostanza, si sposta leggermente a sinistra in modo da raggiungere quella specie di altura, ora il promontorio a destra, che vedete lì, poco più dietro del suo mirino, gli permette di sparare da invisibile se quella nave non appena quella tornerà ad essere spottata. Per il Puerto Rico sono dolori, perché il Puerto Rico è un incrociatore che può tancare tanto danno, ma a livello OP, a livello AK prende fuoco piuttosto velocemente, e per uno Smolensk è praticamente cioccolata, non farete tanti danni con le salve, ma quando troverete i vostri incendi saranno dolori per il Puerto Rico americano. Ora come potete vedere, guardate un po', si sta ripetendo quello che un po' avete visto in queste ranche sostanzialmente, il fatto che si gioca in maniera molto statica, la Thunder era addirittura la nave più in avanzamento in questo momento, sta cercando di prendere i bonus all'interno dell'archipelago dove solitamente c'è il cap di A, però diciamo che la sua posizione è un po' opinabile, però ormai è lì, non può più nascondersi anche perché ha tre navi dall'altra parte. Guarda adesso dove si è messo, anche lì sempre sfruttando il promontorio, sta sparando da invisibile, questa qua è una sorta di meccanica importante che prima o poi dovrò portarvi all'interno di un video per mostrarvela anche ai giocatori più neofiti, questo perché lui la utilizza veramente alla grande, ma soprattutto è una meccanica importantissima per utilizzare incrociatori come questi senza per forza sacrificare la cortina fumogena che come sapete sullo Smolensk è importante, ma con super internet ne imbarca solamente tre, quindi se riuscite a sparare da invisibili facendo danni, risparmiando la vostra cortina nei momenti più importanti, beh questo farà la differenza. Guardate un po', il Porto Rico cerca di andarsene e ci sta riuscendo ma da brutalmente il broadside al nostro incrociatore che ora escono nuovamente l'incendio sul povero Porto Rico. La montana sta facendo una cosa piuttosto sconsiderata, sta pushando su questo lato, formazione all'alto del nostro Smolensk in posizione statica con quattro navi come usaccia esterna, ok a venire avanti in questo modo ma è assolutamente sbagliato, lo Smolensk può tranquillamente arrivare a 16 chilometri e mezzo anche perché i suoi proiettili sono molto veloci, per lui è uno scherzo raggiungere la Battleship americana e tra poco ci prenderà le misure, ecco. È spottato, c'è chiaramente forse il Porto Rico che riesce a vederlo nella zona più bassa ma non credo, forse un Destroyer da qualche parte o magari l'Iowa nella zona più aperta. Vedete un po', gli incendi cadono piuttosto velocemente, è per questo che per le Battleship è sempre consigliabile montare Fire Prevention perché ormai, ragazzi, è quasi più dannoso il danno a che potete imbarcare contro questi incrociatori che sparano piuttosto velocemente piuttosto a il danno che può arrivare da una Porta Aeree sui cieli. Addirittura il team nemico è riuscito a fare più kill, lo Zao ha affondato la Montana, Montana che adesso è in Damage Control perché ha utilizzato praticamente il suo sistema antincendio per spegnere gli incendi dello Smallest ma vedete che lui trova la nave sempre facilmente e il danno non entra più come prima quando con le singole salve facevate dei danni spropositati ovviamente non hanno più quella penetrazione dei colpi però gli incendi compensano davvero. Guardate un po', 358 colpi a segno, 15 incendi, 16 adesso, sono veramente tanti se considerate che questa nave spara velocemente e ha uno numero enorme di cannoni a bordo perché ne ha 16, 4 torri quadrinate quindi i danni entrano. Guardate poi, anche se non è più Inertia Fuse guardate che male può fare sulle sovrastrutture della corazzata tedesca entrano praticamente delle botte da quasi 4.000 o più sulle sovrastrutture della Curfust. Ora, lui ha già raggiunto il Confederate perché ha fatto danni importanti su 3-4 navi diverse continua a far danni guardate un po', è ancora invisibile ragazzi è ancora invisibile guardate un po' sopra 355.000 di danno tancato praticamente ha imbarcato qualcosa come 3-4 salve e basta lui il suo posizionamento è veramente perfetto in questa circostanza e il fatto che nessun destroyer nemico abbia cercato di attaccare il centro perché il gering era molto esterno gli ha permesso di vivacchiare in maniera allucinante. La partita è quasi arrivata a metà abbiamo già superato i 200.000 danni e tra l'altro i nemici continuano ad attaccare quella zona di acqua dove lui a tiro non si rendono minimamente conto del danno che lui può fare. Avete visto prima salva da 5.300 sulla Georgia Smolensk nonostante ragazzi abbia avuto questa modifica al ponte centrale e inerse fuse rimane comunque la nave che quando è nelle posizioni giuste e quando può sparare nelle mani dei giocatori giusti può fare dei danni mostruosi non c'è stato alcun nerf alla nave di per sé questo perché ho letto in giro opinioni un po' discordanti al riguardo gente che diceva che dopo inerse fuse lo Smolensk è diventato ingiocabile gente che diceva che lo Smolensk smetteranno di giocarlo perché ci saranno navi più forti di questa ora probabilmente è anche vero questo perché sicuramente usciranno anche navi magari più forti in futuro ma che lui venga non più giocato perché diventerà una ciofeca quello no Smolensk è ancora uno dei migliori incrociatori del gioco a mani bassissime e in questa season ranked con le battaglie così statiche lui è stato sicuramente una delle navi più determinanti almeno se utilizzato con il cervello ovviamente anche perché può sparare lontanissimo e i suoi colpi sono velocissimi quindi è molto facile trovare i target guardate un po' High Caliber la Georgia ha sottovalutato tantissimo il danno che entrava da lì ora guardate tutte le navi si sono spostate in maniera esterna proprio per evitare di incrociare il fuoco dello Smolensk ora li guardate non è un problema si sposta leggermente a destra e cercherà di riprendere sotto il suo fuoco quel povero porturico che prima è riuscito a sfuggire ma ora praticamente in una zona completamente aperta non ha possibilità di uscirne vivo contro il nostro fortissimo giocatore dei Junk Junk ormai sono stabilmente diventati un colosso di questo gioco due volte finalisti del King of the Sea diverse volte in Lega Uragano a tutti gli effetti ormai un top clan assoluto del panorama europeo di World of Worship guardate un po' Trade più o meno Salem per Iowa guardate un po' lui passa nuovamente agli AP guardate sugli AP sulle sovrastrutture uno pensa ma si sono sempre due o tre mila non sono dei danni importanti si ragazzi ma con questa cadenza di fuoco diventa veramente un martellamento continuo gli AP di questa nave sono sottovalutatissimi sono rimasti intoccati ragazzi quindi sono veramente potentissimi potentissimi capita anche di fare a volte 6-7 mila sulle sovrastrutture delle battleship inglesi quando sparate sotto i 10 chilometri è veramente terrificante il loro fuoco di tiro per non parlare poi sui destroyer guardate un po' il run ha deciso di avvicinarsi ma credo che cambierà presto idea siamo breccati qualcosa come 10 mila danni in pochissime salve cerca di darsi alla fuga la potativa è tutt'altro che finita guardate siamo 6 contro 6 qui sta chiaramente facendo la differenza siamo già arrivati quasi a 350 mila danni ovviamente è arrivata anche la medaglia degli elementi considerando tutti i danni incendi che ha portato a segno siamo a 24 incendi il run affonda praticamente lo zau e lui ci trova nuovamente sotto di di navi cambia versione nuovamente ora va sullo zau che è imperversa a destra è un 3 contro 3 ma in realtà c'è lui che dà aiuto quindi non è proprio così grande legna della musashi sullo zau nemico e quindi è un 3 contro 2 a questo punto lui può tornare sulla montana che prima era riuscita in qualche modo a salvarsi ma questa volta sta accorciando sulla musashi è praticamente cioccolato per il nostro smolensk guardate un po' parliamo di colpi sensi da 16 km in piena affiancata sulle sovrastrutture che a volte fanno 3000 danni e gli incendi ovviamente arrivano a go go diciamo che a fine partita vi ritroverete un po' con il dito lesionato perché lo utilizzerete veramente tanto arriva in esimo intendo sulla povera montana e lui decide di cambiare per massimizzare i danni e cercarlo sulla Yamato questo perché guardate un po' da per scontata una cosa che probabilmente le due battleship arriveranno a rammarsi l'una con l'altra e quindi invece di far danno su una nave che forse morirà comunque tramite il ram della musashi è meglio andare sull'altra Yamato che praticamente è full vita e quindi è un bersaglio molto più appetibile e ci vorrà molto più tempo per affondarlo ora la musashi cambia idea va praticamente in reverso e quindi lui torna sulla montana a quel punto ci stava tutto il trade perché trasformavi la partita in un 4 contro 4 però è anche vero che considerando che sono in in età superiorità d'America da questa parte la musashi fa anche ebbina temporeggiare dopo tutto siamo ormai arrivati a ridosso dei 400 mila danni lui sta cercando nuovamente l'incendio sulla montana che guardate a questo punto ignora completamente la musashi ignora il worcester va dritto su di lui cioè è disperata la situazione è gran colpo in cittadella gran colpo in cittadella della montana gran colpo un po' anche fortunato probabilmente guardate un po' la musashi alla fine decide quasi di rammare la montana ma a quel punto può tirare tranquillamente un colpo in cittadella questo perché la montana gli sta dando il broadside ma ci pensa al salem con il colpo e la tira giù il rune attacca il centro mappa a questo punto è un rune contro rune decide chiaramente di dargli una mano questo perché non conoscendo il rune alleato non si fida dei suoi alleati il giocatore ormai esperto mai fidarsi degli alleati nelle partite di World of Worship specie quando giocate senza divisione come dice Goodman uno contro ventitré compresi gli alleati che avete in squadra guardate un po' la Yamato si è presa delle legne mostruose mostruose e chiaramente non aveva minima idea su come affrontare la musashi alla fine la musashi cade ma il danno che ha imbarcato Admir Allias ne è mostruoso e lui praticamente porta la kill il Salem porta la kill sulla montana sulla Yamato scusate torna ora indietro una cosa bella dello Small Lands ragazzi è che sostanzialmente questa nave può giocare anche a grandissime distanze senza soffrire il gap di tiro perché i proiettili sono talmente veloci che è facilissimo colpire i target speciale corazzate quindi non è un problema non è un problema assolutamente a differenza di tantissimi altri incrociatori guardate adesso lui ha aperto il fuoco prima perché cercava di provocare il Venezia Venezia è un bruttissimo cliente per lo Small Lands perché le SAP fanno danno pieno su di lui e è in grado anche di fare salve da 15-18 mila veramente terrificante il Venezia sullo Small Lands però lui guardate un po' ignora completamente il nostro piromene dei mari e decide praticamente di andare sul forse sul Salem oppure addirittura cerca di andarsene completamente guardate ora sta utilizzando l'isola attenzione perché se il Salem si portasse a sinistra e spottasse in qualche modo l'altra nave al centro lui potrebbe addirittura fare Blind Fire un'altra volta quasi sta provocando adesso gli avversari quasi ora sta cercando il bersaglio che sa che è lì guardate un po' non lo trova il Salem ormai è quasi arrivato in quella prossimità è un grosso mistero che cosa ha voluto fare esattamente il Worcester perché non era proprio la posizione da guardare guardate adesso come dicevo prima la grande abilità nell'usare l'Invisible Fire guardate è spottato dal Salem lui non sta spottando la nave e guardate un po' l'Iowa va avanti verso il Salem lui passa a P guardate che salve 10.000 quello che ti dicevo prima la potenza mostruosa delle salve a P a questa distanza sulle sovrastrutture delle quarazzate i proiettili di questa nave che sia che siano a P che siano a HE sono assolutamente illegali ora finalmente appare lui ha terminato le sue cortine fumogene ma l'Iowa è talmente decise di andare sul Salem che all'inizio lo sta ignorando ora praticamente termina il uso del radar e quindi l'Iowa torna invisibile anzi no arriva adesso il radar si arriva praticamente adesso il Salem ovviamente si era protetto non poteva riuscire a tankare tutto il danno dall'Iowa o almeno ha cercato in qualche modo di diminuire i danni subiti e lui quindi può tornare a massacrare la quarazzata americana guardate un po' tra l'altro non va oltre e decide di andare sul Venezia questo perché perché guardate un po' con l'insignatura qua al centro gli permette di sparare tranquillamente sul Venezia senza problemi l'Iowa è incendiata subisce ancora i danni e quindi perché no andiamo ad assassinare l'incrociatore pesante italiano mancano ormai solo 35 secondi anche se loro perdessero una nave è molto difficile che la partita potesse essere ribaltata anche perché i danni che sta subendo il Venezia sono importanti e prima o poi verrebbe affondato anche lui il Salem comunque è stato molto intelligente da non uscire anzi è stato assolutamente fondamentale ai termini della partita bravo il ragazzo a non uscire e quindi a giocare per la squadra utilizzando i consumabili molto intelligente e Volchester secondo me non ha fatto una gran partita ragazzi torniamo al risultato finale perché praticamente ormai la partita è in chiusura questo è lo screen personale 463 mila danni quasi un milione di crediti 1478 colpi 30 incendi 2 kill 2 basi difese e il resto poco e niente ma 1478 colpi e poi evidentemente le medaglie confederato ai caliber e la medaglia degli elementi il ritro di squadra è mostruoso mostruoso quasi 4 mila di esperienza base seguito dal Salem che ha fatto un grandissimo lavoro si può dire tranquillamente che l'abbiano vinto loro due questa partita hanno anche fatto praticamente il 50% delle kill ma questa è poca roba considerando che sicuramente il Salem per aver concluso la partita in quel modo avrà sicuramente fatto probabilmente più di 200 250 mila punti danno quindi insieme hanno fatto qualcosa come oltre 700 mila di danni il Worchester come visto ha fatto una partita piuttosto mediocre e si è sostanzialmente limitato a restare vivo in modo da non adeggiare la squadra questo ragazzi era lo Smolensk post inerzia fuse modifica è ancora una grandissima nave ovviamente nelle mani di Slightly diventa una nave eccezionale ma non tutti sono forti come i Junk io vi ringrazio ancora per aver passato il gameplay spero che il video vi sia piaciuto spero che vi siate divertiti io ragazzi come ho detto prima probabilmente i video durante la settimana su Youtube passeranno a uno solo e che vi posso dire ragazzi World of War escemi sempre meno però finché mi divertirà portare dei contenuti e giochiarlo ogni tanto continuerò a farlo da Brizzer è tutto ci sentiamo alla prossima ciao comandanti grazie a tutti Grazie.